radio raccontiamoci il 28 luglio ancora qua a raccontare le prime pagine dei quotidiani le notizie raccontiamo buongiorno simona una pellegrini da prima pagina notte di nuoto questa è la calma vittoria perché anche se non ha vinto lei ha vinto cioè il bello di questa cosa è arrivata settima non è che è arrivata poi lontanissima dalla meta ma ha vinto questi 17 anni di partecipazione olimpica tra l'altro la cosa bella è la foto in cui si vedono pellegrini quasi al trucco perché ha queste unghie truccatissime e questo vuol dire anche lo spirito la calma con cui la presa e i forti allenamenti comunque che hanno sostenuto questa possibilità di partecipare dopo 17 anni un ventennio di olimpiadi un po al contrario di quello che sta accadendo a molte giovanissime come la biles che hanno un attimo un crollo che hanno un crollo psicofisico perché le tensioni oggi nel mondo sono tante a proposito di tensione allora le prime pagine dei giornali da ansa dal nostro momento ansia le prime pagine ansia ansia per la scuola devo dire allora la stampa titola a settembre scuola in presenza piano del governo per rientro in classe e poi si parla anche dei trasporti finalmente vediamo cosa diranno sui trasporti corriere della sera piano per il ritorno in classe io direi eviterà la dad sai che girerei forse il titolo farei il ritorno in classe piano perché non sappiamo ancora piano 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 ne parliamo molto piano tanto cosa vuoi ne parliamo siamo ancora siamo a luglio non siamo neanche ad agosto ma è il momento in cui mettiamo un po di anzi ai genitori cominciano a dire ritornano non ritornano il genitore può andare a lavorare ma diciamoglielo all'ultimo aspettiamo aspettiamo un momento un po piano piano la repubblica dice infatti la scuola dice no al governo adesso comincia la scuola a fare le sue controproposte perché non ci sta presidi e insegnanti vogliono il vaccino per gli studenti anche perché e beh io i presidi insegnanti vogliono il vaccino per gli studenti nei giorni scorsi c'era un'indagine sai di quelle che ci fanno spesso su instagram su instagram su internet insomma su questi siti web da quelle parti lì era chiesto agli studenti volete il vaccino per i professori e tutti hanno detto quasi tutti sì no perché allora è bello questa cosa studenti volete il vaccino per i professori sì professori per i studenti sì ma per se stessi no cioè questa è la cosa e poi ci sta di mezzo il governo che deve sollecitare sollecitare tutto questo green pass però come ci dice quotidiano aspetta un attimo il tempo il green pass però è utile solo dopo due dosi quindi vabbè poi ognuno ha le sue utilità e cioè che questo penso che non c'entri molto il fatto dell'utilità il green pass in questo momento è utilizzato per far fare il vaccino non ha un'utilità chi chi va a studiare questi titoli forse non ha capito perché si fa il green pass ma volevo darci una notizietta piccolina di economia domestica il canone rai fuori dalla bolletta elettrica l'unione europea ha detto al nostro diciamo presidente insomma basta è una forzatura impostata sulle bollette quindi il canone che era stato unito alla bolletta elettrica sarà diviso quindi avremo un altro bollettino per pagare il canone cioè non è che cambiamo si paga il canone cioè bene o male questo era un po più automatico abbiamo trovato questa sorta di automatismo che invisa a molti italiani c'è stava veramente sulle palle a tutti però da una parte magari ti evitava un altro un'altra complicazione su speed, zip, prick... non lo so io l'ho ritenuta come una forzatura vediamo... vediamo... vediamo come... io passo invece purtroppo a due notizie diciamo mi ha attaccato al diciamo diciamo due notizie di cronaca nera cronaca nera due notizie luttuose una è la morte di un cantante che ho sempre amato in gioventù che era gianni nazaro quanto è bella lei mamma non lo sai cantava stupendo gianni nazaro era un playboy degli anni 70 non davvero che non c'eri fuori eri piccolina e poi invece andiamo adesso sui giornali locali e si parte da mantova e anche qui si parla purtroppo di una morte ed è de donno non so se ti ricordi era il medico protagonista della lotta code vide ne abbiamo parlato sul fronte del blog anche con moltissimi articoli è quello del plasma iperimmune e si è tolto la vita di manto da mantova sotto shock e la gazzetta di mantova si è tolto la vita 54 anni nella sua casa di curtatone da primario di pneumologia alle polemiche sulla terapia poi l'addio e si era portato a fare il medico di base a porto mantovano perché le polemiche c'è stato proprio un momento probabilmente di crisi anche con la struttura sanitaria si indaga comunque perché le circostanze sono non sono non sono sono un po' sospetta lui era era un personaggio comunque sicuramente proprio personaggio rende l'idea cioè una persona che aveva tante cose tante idee per la testa quasi un artista anche un libero pensatore un libero pensatore io direi anche un artista un artista della medicina quindi probabilmente soggetto anche a sbalzi d'umore o chissà che perché anche pressione perché perché su questa cosa del plasma iperimmune poi c'è stato un un giro di vite ma ricordiamoci anche un giro di di vari interessi e interessi multimiliardari quindi penso che ci sono tutti le cose gli input dovranno mettere insieme un po di punto dovranno mettere insieme un po di punti per per capire ci sono tutti gli ingredienti per un grande giallo e veniamo al giallo anche qui ritorno al giallo della scuola però in questo caso lo facciamo in in cronaca locale e abbiamo il secolo diciannovesimo che dice scuola piano per il rientro io dico rientro piano 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 per i prestiti al governo vacciniamo gli studenti come hai detto anche te l'arena scuola lite sui vaccini non all'obbligo dice l'arena adesso arrivano le regioni ognuno ha la scuola perché perché infatti infatti il quotidiano di lecce dice pass a scuola un coro di si tutti si 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 ogni regione dice dice la sua e veniamo a libertà piacenza invece questa è una notizia di cui si dovrebbe parlare denunciati i no pass chi parlò in piazza rischia sanzione quindi non soltanto gli organizzatori ma anche alcuni dei partecipanti che tra l'altro molti sono stati anche individuati dalla digo spare questa notizia di corridoio comunque e quindi in prima pagina libertà di piacenza si 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 parla di questa denuncia per i no pass e ritorniamo sulla scuola il piccolo di trieste un giornale molto bello tra l'altro anche nella sua impaginazione forse perché mi piace pensare a trieste notizia positiva a scuola di futuro 23 corsi in prima pagina questa notizia della prima pagina per il piccolo e 23 corsi per trovare lavoro l'ottantatré per cento di chi frequenta gli its gli istituti tecnici regionali trova occupazione entro un anno dal tecnico biomedico al disegnatore navale le competenze più richieste quindi un invito a fare delle scuole specialistiche perché poi il lavoro si trova perché il lavoro è un altro dei nodi di questo e la formazione erano era anche questa rientrava nel recovery un sacco di soldi dovrebbero arrivare sì quello spero che arrivino anche anche per non soltanto perché si parla sempre dei giovani ma ci sono anche i 56 anni che sono rimasti diciamo a piedi che si autoformano vediamo adesso invece andiamo un po nella cronaca veramente nera in questo caso gazzetta del mezzogiorno favore un detenuto sospesa la direttrice del carcere di Tampo perché nei carceri c'è sempre questa commistione basta poco a volte quindi anche qui ci sarà da indagare ma entriamo in un'italia che sappiamo che esiste a volte non vogliamo vedere che ha appunto anche quella carceraria dalle cronache di napoli lasciato solo si uccide in carcere secondigliano sigignano fu protagonista di una roccambolesca fuga dal penitenziario di rebibbia venne preso dopo sei giorni a Melito ci aveva già provato tre giorni fa e invece c'è arrivato anche perché il carcere è una situazione limite che noi mettiamo anche ai limiti spesso della nostra mente quindi lì accade di tutto adesso con lo scandalo di qualche settimana fa delle violenze nelle carceri c'è un po di attenzione mediatica attenzione che arriva lì come un faro ma poi sfugge via e andiamo al maltempo perché in questi giorni abbiamo avuto anche queste notizie partendo dal dal lago la provincia di como che titola disastro sul lago piogge violente provocano alluvione e frane colpiti soprattutto cernobbio brienno laglio le zeno e schignano sponde distrutte case strade danneggiate auto travolte è il è il momento della conta dei danni conta dei danni che in questo momento si sta facendo anche nella zona tra il reggiano e modenese anche lì infatti i giornali cominciano a parlare di conta dei dei danni e di di rabbia poi perché si sia impotenti di fronte a questa forza del maltempo voglio chiudere con questa carrellata carrellata locale con il corriere di siena sempre giovani sempre cultura bonus cultura 18 anni senesi truffati al momento di pagare scoprono che i soldi sono spariti la polizia postale ha raccolto una decina di denunce sono riusciti non so in che modo a riuscire a spendere prima che il possessore del bonus qualcun altro si è impossessato del bonus l'impossessore del bonus curiosa questa cosa della corriere di siena dove c'è anche un prima che tu vada a fronte nel blog leggiamo un quotidiano nazionale sulla giustizia così giusto per dire che siamo sempre lì da conto e altro avviso draghi modifiche pure sulla corruzione o niente fiducia alla cartabia insomma siamo sempre non ci siamo vediamo al momento di voto si scopriamo se tutte queste cose di cui si parla sui giornali verranno in qualche modo perché poi ognuno lo fa per tirare l'acqua al proprio mulino al proprio partito alla propria anche visibilità quello che sta cercando di fare anche conte in questo momento ma poi se non si vota compatti il governo salta è un governo che sta aspettando una pioggia di miliardi neanche di milioni è difficile che salti quindi vedremo cosa cosa approveranno in fase finale fronte del blog sono due notizie interessanti una è di mario martinetti ce parla il dottor mario martinetti gli articoli sono entrambi di stefano mauri questa di cosa raccontano le statistiche sulla vaccinazione se avete tempo leggetevelo e così uno cerca di capire perché è importante vaccinarsi al di fuori di quelle cose che 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 dicono e capire c'è proprio un po il fattore di riuscire in parte a contenere questa 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 è un quadro sui dati quindi una cosa abbastanza pulita equilibrata andate a leggerla e poi ci facciamo un risottino allo zafferano perché questa imprenditrice giovanissima ariana larini che ha creato questo zafferano già lo zafferano costa molto il suo è il top del top guarda la scatolina che c'è in foto di questa prima lo zafferano italiano artigianale tra i migliori al mondo va conosciuto infezionato come un gioiellino è un gioiellino lei se mi ricorda quelle scatole di caviale che arrivano dalla dalla russia che costano tra l'altro veramente un molto della testa però sai un prodotto estremamente estremamente valido ecco lei probabilmente ha studiato marketing e ha creato questo super zafferano tra dentro ci sono due pistilli sì esatto però sono saporiti sono il top bene e siamo quindi al termine però ricordiamola l'estate ricordiamo l'estate mandateci i vostri racconti estivi sia le prime pagine che anche proprio il vostro viaggio portateci in viaggio con voi iscriveteci che vi daremo voce info piocciola radio raccontiamoci punto ne